Importante workshop a Roma sul futuro dell'energia idroelettrica italiana. Un obiettivo importante, un tavolo importante, ricco di tante opinioni diverse. Non solo gli stakeholder, ma anche le forze quasi antagoniste, pronte però a collaborare e a confrontarsi. Paolo Taglioli, direttore generale, è questo il tavolo che avevate pensato quando avete organizzato il vostro appuntamento? Assolutamente sì, grazie. Ci troviamo in una fase in cui stiamo consultando la boccia del nuovo decreto FAIR. Noi ci poniamo l'obiettivo di fare associazionismo e per farlo bisogna adoperarsi con fatti concreti. Questo è l'unico tavolo che fino ad oggi è stato fatto, al quale hanno seduto rappresentanti di importantissime istituzioni di rilevo nazionale. Pensiamo a Legambiente Nazionale, Federbim, Uncem. Con questi soggetti noi abbiamo veramente aperto un confronto e siamo disponibili a produrre un documento da portare al legislatore. che a un mio auspicio dovrà per forza di cose tenere in considerazione perché oggi veramente a questo tavolo era rappresentata una fetta importante del paese. Paese pregiato, paese dal punto di vista della montagna, quel paese importante che tutti vogliamo valorizzare. Direi non solo energia idroelettrica, ma anche un pezzo importante di economia della montagna. Bene, le opinioni sono state tante, ma quello che è emerso è che probabilmente bisogna fare ancora più chiarezza. Ci sono dei passi successivi che prevedete da qui ai prossimi giorni o alle prossime settimane? Certo, noi vogliamo continuare con un confronto costante con il legislatore e vogliamo che questo tavolo non sia un tavolo che si conclude oggi, ma che si riunisca periodicamente per potersi confrontare su queste che sono tematiche veramente importanti per i nostri figli. Perché qui si discute di sviluppo sostenibile, si discute di garantire un'area più pulita ai nostri figli. Si parla di una filiera, quella idroelettrica, totalmente italiana, che può far crescere il più il più di ogni altra. Grazie.